Ciao a tutti, scopri dal dialogo se hai a che fare con un narcisista. In questo video voglio darti alcune indicazioni utili per scoprire, attraverso un semplice dialogo, se hai a che fare con un narcisista. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Inoltre ti ricordo che sul canale è possibile abbonarsi e abbonandoti al canale potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Ma veniamo al tema, scopri dal dialogo se hai a che fare con un narcisista. Allora, non mi soffermerò qui a parlare dei narcisisti perché ne ho parlato in tantissimi video. Voglio però farti presente e ricordarti quali sono le modalità rapidamente di comportamento dei narcisisti. Però è ovvio che se tu aspetti tutte queste modalità, magari passa del tempo e ti sei coinvolta o coinvolto. Le modalità sono il pensare, diciamo, fare love bombing, vatti a vedere comunque i video, isolarti, poi denigrarti. Insomma, sono tutte tattiche che il narcisista può utilizzare, diciamo, fino ad arrivare a squalificarti. Ecco quindi che in questo modo ci vuole però del tempo per capire se davvero hai a che fare con un narcisista. È più semplice utilizzare il dialogo per capire se davvero hai a che fare con un narcisista. Quali sono i segnali che ti fanno capire rapidamente? Beh, ad esempio se mentono, magari dicono qualcosa e emettono dei segnali negativi, questo è un segnale molto forte che è una persona che mente. Oppure se tu sai anche qualcosa di loro per caso, anche una cosa semplice, e noti che tendono a mentire comunque anche su cose semplici, si contraddicono, Beh, non è detto che sia sicuramente un narcisista, ma ci sono buone possibilità, perché una delle caratteristiche dei narcisisti è proprio quella di mentire, è proprio quella di mentire spudoratamente. Questa è la prima caratteristica di un narcisista che devi prendere in considerazione. Quindi questa è un qualcosa che succede, quindi osserva, osserva molto bene questo, perché se è una persona che utilizza, diciamo, una comunicazione di tipo menzognero, beh, hai buone possibilità di avere a che fare con un narcisista. Ripeto, soprattutto quando non ci sarebbe neanche bisogno di mentire. La seconda caratteristica, soprattutto dei narcisisti, diciamo, istreonici, o dei narcisisti overt, è che ti parlano con un tono di sufficienza, quasi come se tu fossi una vittima, tra virgolette, come se fossi inferiore. Ecco, magari cercano di essere gentili, perché nella fase di Love Bomb, cercano di essere gentili, però anche il narcisista covert, se tu vai a vedere, per dire che è quello che è il vitello d'oro, in realtà dentro ti guarda e ti parla e utilizza un qualcosa di sufficienza. come se si sentissero, ma di fatto si sentono superiori. Quindi hanno proprio questa tonalità, diciamo, in alcuni casi, a capire, cioè a farti sentire, a cercare di farti sentire per diversi motivi inferiori. Un'altra caratteristica che ti fa capire che nel 90% hai a che fare con un narcisista, è legata, sembra la terza caratteristica, è legata al fatto che tendono a parlare male di altre persone. Cioè il narcisista si presenta sempre come vittima di altri e tende a dire questo mi ha fatto quello, quell'altro mi ha fatto quest'altro. Hanno proprio questa metodica, diciamo, sistematica costante di voler parlare male delle altre persone. parlano spesso male degli altri, in realtà senza un motivo di fondo, un motivo reale, ma hanno proprio questa caratteristica. E quindi chi vedi che parla male degli altri, beh, è molto probabile che abbia, diciamo, che sia, appartenga a questa categoria. Però almeno deve insospettirti. Altra cosa, sembra avere più personalità. Cioè hanno proprio questa capacità di essere camaleontici, di essere, di adattarsi. Con te parli in un modo, con un'altra persona parli in un altro. Si riguarda in un contesto, si comporta in un modo, in un altro contesto si comporta in un altro. Hanno proprio questa capacità di plasmare la realtà in modo da adattarla, diciamo, a quelle che sono le loro esigenze, fondamentalmente. Questa è un'altra caratteristica tipica proprio del narcisista, della persona che ha questo modo di fare, questo modo di comportarsi. La quinta caratteristica è quella che fanno costantemente le vittime. Fanno eternamente la parte della vittima. E questo funziona, diciamo, lo fanno frequentemente. Cioè tendono ad avere proprio questo modo di fare, questo modo di essere. Fanno la vittima e sperano, diciamo, che le altre persone siano, credano in questo. Sono fortemente eterattributive e si lamentano di essere stati maltrattati, talvolta di essere stati abusati, talvolta di essere stati trattati male, di essere, diciamo, al centro delle cose. Invece hanno proprio questa caratteristica per, diciamo, da un certo punto di vista, farsi passare come vittime del mondo. Un'altra caratteristica tipica del narcisista, la sesta caratteristica tipica del narcisista, è che da subito, diciamo, cerca di capire quali sono i tuoi punti deboli. Utilizza, diciamo, cerca di comprarti in qualche modo, di offrirti qualcosa che ti manca. In modo anche prematuro. È quello che magari cerca di dirti, hai bisogno di questo, hai bisogno di questo. Ma non lo fa per aiutarti, lo fa per poi poterti ricattare eventualmente. Quindi va costantemente alla ricerca di quelli che potrebbero essere i punti deboli. Ecco, queste sono sei caratteristiche che ti fanno capire che molto probabilmente hai a che fare con un narcisista, quindi devi chiudere subito. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e se vuoi sul canale è disponibile l'abbonamento. Abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Ciao a tutti.